Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Giudone, se tu hai delle domande mi raccomando, eh No, adesso mi viene in mente qualcosa Ok, ok, io sto già... Su computer sembro orribile, in realtà sono bellissima A me Blunt & Swishon, a parte che ha un popolare opinion, Blunt & Swishon per quanto riguarda una delle canzoni che mi piacciono almeno di Supreme Per farvi capire Cioè, a me la canzone che mi piace più è il disco, scusate, un disco che ascolto di più di tutti, che è il disco che ha fatto, le basi E la canzone, una delle canzoni che mi piacciono di più sono le canzoni che hanno meno ascolti Ovvero Paranoia Kid No, mi piace Paranoia Kid, un botto Mi piace Chi sei te, ma a parte che mi piacciono tutte, dico l'album Chi sei te... Il gatto Meno male che mi ha tirato fuori altro Comunque, grazie Martina Allora, Alessandra, sei tornata... Tra l'altro Martina, Martina non assomiglia un po' a Cecilia? Me lo dicono tutti Raga, allora... Cioè... No, a Cecilia Cantarano, ha anche lo stesso modo di parlare, lo stesso modo di fare il sorriso uguale Ti giuro, io Cecilia la conosco, porca misera, la conosco, lo dico io Cioè... Ah no... Te lo sei mai... Vabbè... No, no... Addirittura c'è proprio... Vabbè... Ma stai per insultare qualcuno? No, no, no... Ehhh... No... Cioè, ma a scuola quando mi... Mi bullizzavano da dietro... Guarda un piccolo... Guarda quello quel più alto... Un piccolo... No, ma hai visto cosa ti ho scritto? Hai visto cosa ho scritto? Io l'ho letto! Ma come? Non lo leggi? Zio, Dream... Ah, è vero... Dreamstein... Eh, hai visto? Porco Dio! Eh... Che è? Dica, hai detto qualcosa che è incestibile? Salve! Come è incestibile? Ciao Fishball! Oh, ma hai rotto il cazzo! Porco Dio! Appena arrivato a dovere un pericazzo di cane! Porco Dio! Vabbè... Andola così! Non ho capito, ti abrico io! Non mi preoccupato... Vogliamo... Allora... Quindi io, eh? Non voglio... Non voglio essere ovviamente... Tu mi hai scritto di andare hardcore... Non so io quali tasselli posso toccare... E se fai hardcore vuoi toccare tutti i tasselli... Tanto qua... Non abbiamo segreti! Guarda, ma io me la sorrido di gusto! Allora... Guarda, Cristina... Cioè, hai possibilità di mettere il telefono in orizzontale? Certo! Tutto il sondaggio vuol dire che comunque è stato... Infatti il sondaggio è molto combattuto, quindi vuol dire che è stato... Ah, addirittura la seconda! Eh, magari molti si sono collegati adesso, quindi hanno visto solo quella! Però comunque... Chi non ha visto la seconda vi consiglio di guardarla! Che cosa succederà adesso, ragazzi? Ehm... Succederà che queste coppie qua, questi due... Questi quattro ragazzi... Ci sono andavanti! Ci sono attrapposti tutti forti goodli esserci...